ah 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 io ti posso dire solamente questa più più offendono più che poi ci sono questi leoncini da tastiera no questi omuncoli questi leoni più offendono è come quando giocavo a calcio più mi fischiavano e più ci rimanevano male e per me è la stessa cosa più forza mi danno ancora più forza e gritta perché così se volevo fare due faccio tre ne apro due di canali youtube non uno ne apro l'altro morigno diceva asino può lavorare molto ma non sarà mai cavallo continuano a mettermi delle parole in bocca che io non ho mai detto io oggi ho paventato eh le le varie ipotesi ho detto soprattutto per far capire che chi parlava di americani parlando del Bahrain è come se eh ci stesse dando ragione perché poi il Bahrain è diviso da un ponte intitolato ad un re saudita eh che è praticamente la distanza si aggira sui venticinque chilometri quindi di cosa parliamo io non ho detto quello e mi stanno mettendo in bocca il primo canale il primo canale su youtube a fare delle live serie eh con duemila persone è stato questo purtroppo c'erano persone che eh uno soprattutto che ne parlava ma non veniva considerato e eh doveva attaccarmi per essere un po' visto perché parlava alle anetri ai piccioni purtroppo incominciarono ad offendermi in maniera seria voi lo sapete proprio perché volevano farsi strada in maniera scorretta perché le loro possibilità non gli permettono di fare strada poi vedi se a me mi chiama eh o o si più oppure se mi chiama Bergomi eh non sono stato io a cercarli sono loro che cercano me perché io non campo sulla proprietà cioè io sul canale youtube a differenza di tanti parlo solo ed esclusivamente di calcio quindi io capisco che l'invidia faccia male che faccia bruciare lo stomaco che non faccia andare in bagno ma eh ragazzi non è colpa mia se a qualcuno rimango simpatico diciamo non ti ho di essere bravo perché non lo sono ma se rimango bravo se rimango simpatico a qualche d'uno ragazzi io ci posso fare nulla forse anche perché a differenza di qualche d'un altro so come funziona un po' come rotola una palla da calcio ecco qualcuno apre canale youtube non sa nemmeno come rotola una palla da calcio quindi le offese mi caricano ancora di più offendete ancora di più perché a me più mi offende più mi carne apro un altro di canale youtube ora anzi ne apro un altro e farò fare due tre live al giorno live soprattutto ora va bene facciamo sì poi dopo vediamo oggi c'è stato un'altra un altro movimento molto ma molto importante che di solito viene sempre fatto nella nella fase precessione ovvero sia quella di zanghe che converte 86 milioni di debiti in capitale questo è un ottimo segnale perché è un ottimo segnale perché quando devi fare conversione a patrimonio netto o devi fare una rinuncia alla fine questo non ci piove quindi eh quando c'è il club per migliorare i monti fai la rinuncia a quelli che poi sono i finanziamenti i soci e li converti in quota capitale molto semplice eh perché poi non l'ha fatto l'anno scorso zanghe lo fa quest'anno chissà perché chiediti perché zanghe non lo fa l'anno scorso ma lo fa quest'anno che dici ormai è il segreto di fucinella no l'ho detto anche oggi sui cv sport a maggio c'è il frontale di solito non si arriva mai fino alla scadenza eh parlo del venti maggio del prestito di circa tre di circa quattrocento milioni che deve restituire zanghe ma di solito si molla un paio di mesi prima ocri ha detto più volte che dell'inter non se ne fa nulla eh vedi che la forbice ormai si è sottigliata lo hanno capito tutti che l'inter ormai eh deve passare di mano no? E che zanghe non può più andare avanti quindi voglio dire ormai è il segreto di fucinella di di cosa vogliamo ragionare ringrazio Fabio Bergomi per la stima ma che c'era da prima che c'è sempre stata anche perché lui mi contattava anche quando parlavo solo e esclusivamente di calcio io sono stato tre mesi senza parlare della proprietà questo canale è cresciuto lo stesso ho fatto live con sei settecento persone l'ultima live parlando di calcio alle due di notte eravamo in quattrocento persone live viste da cinque sette otto diecimila persone questi fanno live con cinquecento visual e capisco che io io posso anche capire qualcuno usa youtube per questi donazioni soldi visual io mi posso permettere di fregarmene per quello che forse magari quando prendi le cose più alla leggera è quando tra virgolette hai più successo no? Hai più penetrazione a qualcuno e per qualche uno ci sarà anche una penetrazione ma da un altro lato soprattutto gli americani che ora ovviamente essendo spalle al muro e cominciano con le offese con i dissing ma ma non ci sono problemi scrivete tutto quello che vi pare però non fate leoncino a tastiera quando scrivete mettete anche nome e cognome già che ci siete cosa vi costa continuiamo così ragazzi che siamo forti che a breve ci toglieremo grandissime soddisfazioni continuiamo così io davanti all'invidia però non posso fare nulla davanti all'invidia gente da fuori che va fuori di cervello non posso fare nulla dovete giudicare voi siete sempre voi i giudici supremi giudicate voi ce l'avete voi in mano il clic cliccate non cliccate togliete mettete se guardate non guardate dovete giudicare voi ma le persone scorrette hanno vita breve soprattutto quelli che usano metodi sporchi per farsi strada durano molto ma molto poco e infatti ciao ciao ragazzi